e serve la precisione al cento per cento abbiamo Vanessa Ferrari Vanessa Ferrari alle parallele asimmetriche non la vedavamo veramente da cinque anni mezzo giro in cubitale, gran volta cubitale bellissima, gran volta cubitale con un giro e Jäger dà la cubitale wow che verticale mezzo giro, un bel recupero ancora mezzo giro e di nuovo in cubitale ancora un giro e di nuovo in cubitale Jäger unito bellissimo ragazzi Tarzan, bene giro di pianta staccata giro di pianta alla verticale e Zucara d'uscita che forma ragazzi